Dopo dieci giorni di chiusura per precauzione in seguito a casi di contagio da coronavirus sul territorio, riaprono oggi le scuole ad Atena Lucana e quanto disposto da una nuova ordinanza sindacale che fa seguito a quella emanata il 2 ottobre scorso, con la quale si prevedeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino all'esito degli accertamenti sanitari e diagnostici. Da oggi dunque ad Atena Lucana si rientra scuola in sicurezza. La decisione della riapertura è stata presa in seguito all'accertamento della negatività dei tamponi effettuati nella mattinata di mercoledì 7 ottobre ad alunni e personale del trasporto scolastico come programmato dall'ASL. Con immenso piacere si legge in una nota l'amministrazione comunale comunica che l'esito dei tamponi effettuati è negativo. Durante i giorni di chiusura fanno sapere si è provveduto a sanificare nuovamente tutti i plessi scolastici e gli scuolabus. Infine l'amministrazione raccomanda sempre l'osservanza delle più semplici norme di comportamento, l'uso consapevole delle mascherine, l'igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale. Buone notizie arrivano anche per quanto riguarda i tamponi effettuati a Sala Consilina. L'amministrazione comunale ha comunicato che sono tutti negativi gli esami effettuati al personale docente e ai compagni di classe del bambino risultato positivo nei giorni scorsi, a riprova del rispetto delle norme anti-covid all'interno dell'istituto scolastico. Sono per fortuna risultati negativi anche i tamponi effettuati finora a Polla a docenti e alunni del plesso scolastico capoluogo dopo l'accertamento della positività al covid-19 di una insegnante. La scuola resterà chiusa ancora domani come da ordinanza sindacale.